L'iniziativa consiste nella possibilità che Fader Pharma dà alle assoluzioni provinciali, alle unioni regionali e a tutte le farmacie del territorio di contribuire con un gesto concreto a quella che è una crisi umanitaria che i media ci raccontano tutti i giorni. Sarà possibile quindi donare delle somme a ognuno delle proprie disponibilità che confluite su un conto corrente dedicato daranno la possibilità di acquistare kit per la medicazione, materiale come bendaggi e soprattutto anche materiale per i tanti bimbi che strappati da una culla si trovano oggi profughi senza la possibilità neanche di un conforto alimentare, neanche la possibilità di un biberon piuttosto che di un ciuccio. Quindi tutte iniziative che daranno la possibilità alla farmacia italiana di contribuire in maniera concreta alla crisi umanitaria che purtroppo ha colpito questa nazione. Il supporto delle organizzioni territoriali è fondamentale, la capillarità della farmacia è un must che fa sì che la farmacia si presente in ogni distretto anche nei più lontani dai grandi centri abitati. Proprio questa capillarità darà la possibilità anche ai cittadini in una seconda fase di donare qualcosa per supportare la risoluzione di questa crisi umanitaria. Lo faremo attraverso l'aiuto, l'ausilio del Banco Farmaceutico, della Fondazione Rava e attraverso la donazione dei singoli cittadini sarà possibile inviare poi attraverso la protezione civile e le organizzioni umanitarie che l'Europa ha messo a disposizione nei campi profughi in Polonia e in Romania materiale a supporto di questi poveri soggetti che sono investiti da questa terribile crisi di guerra. Le farmacie possono donare secondo le proprie disponibilità attraverso un bonifico sul conto corrente che vedete scorrere in sovraimpressione, contribuendo quindi in maniera concreta all'acquisto di kit di medicazione di materiale sanitario che verrà poi inviato attraverso l'organizzazione europea nei campi profughi in Polonia e in Romania.